Un film intenso e toccante che rivela con sconvolgente accuratezza la negazione della libertà e dei diritti umani che ancora oggi si verifica in Cina. Si tratta di Free China, il coraggio di credere, diretto dal regista Michael Perman e coprodotto da NTD Television e World2B Production, proiettato in anteprima nazionale al Cinema Massimo di Torino, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, Associazione per il Tibet e i Diritti Umani, del Museo Nazionale del Cinema e di The Epoch Time.